Salve a tutti, sono Terenas e oggi sarò qua per leggervi le patch notes della 4.1 Allora, partiamo subito molto velocemente Cambiamento al sistema delle leghe, diranno fra pochi giorni che cosa cambieranno perché devono ancora decidere quando resetteranno l'aero a tutti quanti e spiegare a tutti quanti che cosa succederà come cambiamenti Poi, cambiamenti sulla vision, praticamente vedrete una maggiore consistenza tipo quando la gente vi dira degli skishop dalla fog of war e anche alcune abilità, vedete che funzionano un pochino meglio riguardanti la visione e dovete vedere in game per capire Allora, andiamo ai campioni Anivia ha avuto un enorme buff praticamente tutte piccole cose che le aiutano a stare in lane L'autoattacchi sono più veloci, la Q, tutte le spell costano meno mana la Q e la W soprattutto e la ulti adesso ha un indicatore come quello di Orianna Piccoli cambiamenti di qualità, forse vedremo Anivia di più giocata non lo so, non credo Rimane sempre un champion con zero mobility Annie hanno nerfato la passiva durante i livelli iniziali così che nella lane phase non è impossibile da laneare quando è un support per compensare hanno buffato un pochino la ultimate diminuendo il cooldown nei livelli più alti questo qua non andrà a influire sulla lane phase di Annie mid andrà a influire sulla lane phase di Annie bot Evelynn hanno nerfato la Q la velocità a cui viene castata la Q questo è fatto per permettere a coloro che hanno dei movement speed buff tipo provate a pensare una Seavir che continua a fuggire da un Evelynn riuscirà a fuggire più facilmente dalla Q di Evelynn a confronto con prima e poi la E adesso fa danno fisico invece che magico questo ridurrà un pochino il burst damage di Evelynn durante il mid game anche se tanta gente come Agua maxava la W come seconda spell e la ulti adesso dà subito lo scudo molto comodo, piccolo cambiamento di qualità allora Gianna Gianna hanno visto che fa schifo in questa patch quindi hanno deciso oh, l'aiutiamo un pochino abbaffando la ultimate hanno aumentato quanto cura di base e quanto scala di base la ultimate la cura quanto cura in totale quindi dura di meno quindi vuol dire che cura di più in meno tempo e comincia a curare da subito e scaccia via tutti gli avversari da subito non dopo 0.25 secondi come era prima molto figo ma non è quello il problema di Gianna Jinx gli hanno ridotto le statistiche di base soprattutto la vita soltanto per renderla un pochino più accettabile e hanno... praticamente hanno fissato la E che era un pochino buggata hanno ridotto un pochino i danni in early e adesso quando vengono caricate quando vengono caricate dopo 0.7 secondi cioè dopo 0.7 secondi sono pronte per essere fatte esplodere le E quando ci si cammina sopra Nasus praticamente hanno reso Nasus adesso ha bilanciato benissimo e ha ridotto il range della W e ha ridotto il cast range della W e della E questo è tutto il fatto che Nasus prima una volta attivato il ghost e la ulti poteva uccidere chiunque in 1v1 cioè ogni volta che aveva ghost up in top lane dopo il livello 6 poteva uccidere praticamente chiunque se aveva avuto una leading phase in cui ha farmato e ha fatto 0-0 e anche in teamfight non aveva problemi di saltare addosso una persona grazie a Dio hanno fatto questo cambiamento adesso è bilanciato non è di solito è solo difficile usare adesso Rengar hanno tolto un bug sulla Q quello che ti permetteva di fare tripla quadrupla Q adesso il buff all'autoattacco dura solo 2 secondi cioè il danno bonus sulla Q viene dato al massimo per 2 secondi è come il cambiamento di TF quando poteva tenere la carta da infinito a 10 secondi e basta la W adesso cura un pochino di meno ma è amplificato da quanta vita manca a Rengar questo qua è per bilanciare un attimo la stupidità di Rengar tank in lane Riven questi cambiamenti alleluia si stavano aspettando tutti ridotto statistiche di base cioè l'attack damage è stato ridotto per aumentare l'attack damage che scala per livelli la Q è stato ridotto il danno base e il danno scaling però in league questo cambiamento si sentirà in early game che le Q saranno un pochino più deboli ma in late game saranno uguali a come erano prima e lo scudo che dura solo un secondo e mezzo ridotto da 2 secondi e mezzo questo è il cambiamento più grande perché Riven aveva uno scudo che una volta ottenuta la massima cooldown reduction aveva un cooldown di 3.6 secondi e durava 2.5 secondi cioè ogni aveva finestre di debolezze di 1 secondo per poterle fare danno perché se no attivava lo scudo ed era a posto e parava danni praticamente ogni 2 ogni ogni secondo e 1 poteva poteva castare avere 4 come 400 HP in più soltanto perché aveva tanta di geniale comunque Shyvana Shyvana non è fatto il danno della W il danno della E il danno della ulti ah no il danno della ulti hanno fixato come si vede nell'indicatore nel menu allora il danno qua si dice il danno per secondo perché il il danno del burnout dura 7 secondi considerando che si fa ogni autoattacco possibile per aumentare la durata quindi questi non sono 5 danni sono 35 danni che sono tanti perché in un trade considerando il cooldown da un basso della W in un minuto sono 140 danni persi se non 175 se si viene usato alla massima efficienza il burnout poi la E ridotto il danno base semplicemente perché in laning phase potete prendere due livelli di E e fare un danno stupido cioè prendevi due livelli di W prendevi due livelli di E a livello 5 potete fare un trade impossibile da rispondere infatti i primi tre livelli sono quelli più deboli di Shyvana poi il 4C 3, 4, 5 è quando diventa enorme Trash praticamente la W l'hanno modificata così è che è fottutamente ovvio che dovete cliccarla fatto proprio apposta per i nabi cioè c'è un indicatore che ti dice piglialo boh non dico niente i muri della ulti di Trash vengono attivati dopo 0.65 secondi invece che 0.5 boh benissimo abbastanza normale adesso hanno fixato un bug che i danni critici sullo static vengono ridotti al 10% anche loro la sua combo EQ funziona un pochino meglio la Q adesso è automaticamente messa su Smartcast sulla W hanno fixato un bug e sulla ulti adesso allora attiva subito la passiva e gli da subito scudo massimo hanno ridotto l'animazione che è comodo perché vuol dire che fa più danno in meno tempo e adesso non adesso non si può fuggire dalla ulti col flash perché spammando il flash si poteva si poteva uscire dalla ulti allora Kelly hanno fixato un bug sulla ulti Darius adesso può ricastarlo per 20 secondi invece che 12 la Q di Filostick adesso non fa correre in una linea retta ma fa correre in direzioni a caso il fear la ulti di Fiora non permette più di teletrasportare si ci si poteva teletrasportare durante la ulti di Fiora era una figata pazzesca da fare adesso hanno fixato un bug di Ekarim ho fixato un bug di Jarvan che poteva fare la passiva sulle torri alleluia su Lux e Nami praticamente quello che hanno fatto è che se muori durante il cast non andrà in cooldown basta Mazar non mi importa non è un champion ma è un minion hanno fixato un bug della trappola in Italy hanno ridotto lo slow di Olaf Talon la E adesso è figa perché esso ti piazza dietro non sopra i tuoi bersagli sarà molto comodo Talon potrebbe essere sciocco ma Talon potrebbe vedere un pochino essere giocato un pochino di più verso questo singolo cambiamento e la Q adesso ha un range indicator l'ha fatto appositamente per lui adesso Sunfire Cape e la Spirit Visage sono stati nerfati adesso Sunfire Cape fa danno di 25 più 1 per ogni livello del personaggio fatto semplicemente per evitare il snowballing questo qua semplicemente ci dice guardate ragazzi prendete un randuin siete tutti a posto e hanno tolto il cooldown reduction della Spirit Visage grazie a Dio il meno mondo non avrà la ulti ogni 26 secondi numero a caso hanno cambiato ok gli item della giungla sono tutti stati cambiati adesso non hanno mana regen non hanno la passiva maim che aiuta a fare che aumenta i danni sui sui mostri a giungla ma tutte quante hanno questa nuova passiva che da l'8% in HP e il 4% in mana dei danni fatti ai minion cioè io faccio 100 danni a un minion mi tornano 8 HP al minion questo va leggermente a favore di chi ha danni a OE ah no half effect fra le OE ah ok no l'effetto di mezzato per gli effetti a OE questo è sensato perché sennò sarebbero stupidamente forti i jungler con danni a OE 2 ability power adesso spirito special rate ogni volta che si uccide un minion grosso nella giungla si ottiene 2 ability power massimo 30 figo allora questo cambiamento importante le torri top e mid hanno una riduzione del danno di 20 per i primi 10 minuti non c'è scritto i primi 10 minuti ma è per i primi 10 minuti questo è per evitare le situazioni in cui praticamente si piazza una persona si fa un 2 contro 1 in middle top e poi arriva il jungler pushate la lane e ve ne andate è fatto opposta per il competitive questo non per altro boh crystal scar non ci interessa howling abyss non ci interessa questo qua è carino praticamente adesso avrete ci sono dei champion gratuiti dall'1 fino al 10 mi pare che sono gratuiti sempre potete sempre averli poi dopo dal 10 in poi avete la free rotation penso che sia tutto buonanotte grazie a tutti